Inchia un po', io ti aspetto, però oggi è più del soldo, cazzo Lo stai usando il microfono giusto per l'audio, vero? Lo stai usando il microfono giusto per l'audio, ma chi ti sembra? Porco, hai buono Di altre frasi in cui non posso dare nemmeno chi ti sembro, va bene? Poi non posso dare niente, parolacce, bestemmi, youtuber censurati Fai schifo Ciao a tutti ragazzi, questo è il tuo Jack Smurry e bentornati su questo No, l'ho sbagliato E bentornato, ma che coppa, oddio, ma cosa hai detto? Ciao a tutti ragazzi, poi lo so, sono il Jack Smurry? Che cazzo dicevo? Oh, ma chi è un Lapsus? Ciao a tutti ragazzi, questo è il tuo Jack Smurry e bentornati in questo nuovo video su G5 Oggi siamo qua in questo Lapsus, compadre, ti giuro su Dio che non ho inventato niente Mi venne un Lapsus e mi sono dimenticato come minchia si faceva lì E bentornato, scusate compadre, la fai da sei anni quanto minchia, eh No, ogni tanto lo dico bentornati, però, oh, minchia che rita Ti giuro, mi sono sentito troppo male, mi sono scordato dove va dall'intro, è una cosa gravissima Oggi siamo sempre qui con Giampiero No, però cambiamo attività, Mani Tremule che fa? Guarda un po', io un n***a, io un po' da fuck, io, io, io Scaccolamento Ah, no, cazzusce, non si fa Chitarra, tiki 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 Oggi ragazzi siamo qua su tre gare veramente molto molto particolari Su tre? Gare, gare! Ah, gare Minchia, che arrabbiare, Giampiero, io sono una persona calma, però oggi mi stai facendo arrabbiare, allora vengo là di due schiaffi che ti esistiamo con la faccia storta che ti ritrovi, cazzo Ah sì? Minchia che bella la mia postazione, Giampiero, ma non vale che me l'ho montato tu perché sono veramente orgoglioso Non so vedere il mio video nel canale, ragazzi Comunque, ragazzi, in queste tre gare c'è un easter egg, come dice il nome della playlist e dovrete trovarlo voi, 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 voi E io pure? No, tu devi fare pronto, altrimenti non partiamo mai Ah no, dico, ma lo devo trovare anche io, le easter eggs, diciamo Vediamo, vediamo se sei bravo, però, ecco, se loro riescono a trovarlo prima di te, vincono un'iscrizione, nel senso che si devono iscrivare al mio canale Ah, bello, dai Eh, una gran vincita Di parte, ovviamente siamo sempre soli perché cerchiamo di... Perché noi ci siamo spostati su PS4 Mica, un po', bella questa progetto, non cammina oggi E su PS4 non ce l'ha nessuno perché non hanno sordi per comprasselo Sì, però, ecco, diciamo, adesso stiamo cercando di convincere sempre più youtubers a comprare la Playstation Perché comunque è importante spostarsi su diverse plataforme per avere un'omogeneità di contenuti Pubblico, di contenuti e di pubblico, Giorgio Di pubblico, di pubblico, anche... Oddio Ah Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Oh, vai tipo di tetto, guarda, hai visto? Ma che mi... Maria, Maria! Sto credendo! Maria, 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 Maria! Aspetta, mi ti prego? Guarda il tetto, compà! Ma tu te lo colleresti in real life! Compa, ma il tetto venisse tuttavia tutto distrutto! Eh, inchia! Con quel tu che costa, caproggio, parca puttana! Eh, questo è un origami enorme! Eh, che origami ha? Eh, questo è tipo un astratto. Gli origami si possono fare di tante figure, come ben sai. Cos'è un origami, intanto, Jumpy Deck, per quelli che non lo sanno? Una creazione con la carta! Porca miseria, tu ce l'hai fatta? No. Nemmeno io, nemmeno io, nemmeno io! Perché pensavo si dovesse andare sopra il tubo, invece si va dentro il tubo. Magari che adesso è in real life. Ah, in real life. Porca... Ah, scusa. No, ho aperto... Che ridi, cretino! Ho aperto pure il coso. Come si chiama la dashboard? Minchia, quanti tanti termini mi stanno vendendo oggi tutti a prima colpa, perché sono in partito. Eh, sei in rage, diciamo. Non ci entro in questo tubo di merda, porca di... 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 Sono entrato, sono entrato, sono entrato! No, è finita. È finita proprio. Non hai capito niente. Se non la prendi a massima velocità, io tipo si dirruppavo. Invece la devi prendere... Ciao! Ragazzi, 50 mili mi piace, wallride in real life. No! Io ero entrato dentro, compà! Eh, per forza dentro devi entrare. Ma che cazzo dici? Devi andare sopra. Io prima andavo sopra, ma non ce la facevo, per Dio. Sono andato un sacco di volte sopra. Sacco di? Ma non ce la fa. Parca miseriaccia! Ma ragazzi, queste gare che sembrano più serbe... Comunque non ci sono più le gare difficili di una volta. Veramente. Riflettici, compà. Prima, perdevamo delle ore su GTA. Perché erano le dimostrazioni di... 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 Che c'è? No, lontano! Ah! 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 Ma che cos'è questa creazione origamosa? Oh! Che bella! Da qui c'è stata colazione! Questo potrebbe essere una buona preview! Ma non si... Credimi che non si capisce un cazzo! Porca buttana! Porca buttana! Sono caduto! Perché per fare l'inquadratura perfetta per la preview! Ah! Perché Giorgio sono stai perfettamente al centro! Ci sono diciamo... Mh, ecco ti! Sa! Quest... Mh... Ahahahah! Ok! Ma... Sì! No! Non ci credo che ti sia dal vaso! Su Camilla! Su Camilla! Su Camilla! Comun'uovo! La seconda vado a vincere, mi dispiace Giorgio! Oggi non è... Non è aggiornata! Vabbè tanto deve essere sempre così! Peccato che oggi non dobbiamo registrare per te! Guarda dove sei arrivato! Pensavo di sdirubarti! Me ne sono andato sulla montagna, appena hai detto pensavo di sdirubarti, mi andavo nella montagna! In tà? Montagna! Guarda che vantaggio che hai acquisito! Ma come si fa ad acquisire questo vantaggio! Ecco! Eh, perchè... Ma lo sai, perché Giorgio è tutto... E' un segreto che tu ben sai! L'approccio! Aumento di rango! Anche qui sto diventando un piccolo mafioso! Così fermo a fa! Così fermo! No, 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 no! Che sostanza da gay! E' molto posessuale in effetti! Inchia! Il nono finale era tipo... Oggi Giampiero vuole raccontarci cosa abbiamo fatto questo pomeriggio, un video molto spettissimo che uscirà Ho perso mezz'ora perché delle persone poco raccomandabili hanno fatto una cosa che non vi racconteremo E poi abbiamo registrato un video importante Giorgio quando esce aiutami per favore Lunedì alle 14.30 Che esce lunedì alle 14.30 Vi invito a guardare un nuovo episodio di giochi del 92.000 Diciamo quei vecchi giochi Mi rendi orgoglioso E ragazzi vi dico si è un gioco molto molto interessante Di cui dov'è finito il mio personaggio Ma perché è tutta bocca Dove è la strada Dove cadiamo adesso? Quanto cadiamo a terra 1 a 10? Ma che cazzo Giorgio Che cosa significa questa cosa? Che significa? Dove vai? Oddio Non sto capendo credimi Ah figlia rosa Non ce l'ho fatta Perché è così? Oh ma come minchia si fa stuperte? Stuperte? Un baffi raio Ma non capisco se è la playstation che si è buggato Proprio la gara così Ma ma se è rosa Quando dice sta cosa Mi sembri un novellino di youtubes È così proprio la gara Trasparente Invisibile Ma ma certo è così Queste gare così Due sono tre gare semplici Siamo qui già da mezz'ora Nooo Ce l'avevo fatta Non ho preso il jet point Non ci credo Minchia Giampiero Questi sono i momenti In cui proprio Perdi la fede Nell'umanità Io già l'ho persa Quando ti ho visto Che ho detto Non è possibile Che è nato un esemplare Di uomo così Però veramente Io anche ora Mi sto un attimino Nervosendo Perché non è possibile Che ci sono Tutte queste incongruenze Nella mia vita Stavolta la pigliava Sì che ci ho fatta Figlio di puttana Minchia Vagacchista Malapuzzo Figlia rosa Ma che è Ma che siamo insinco E mo Vieni che si ritornano indietro No Cazzo Donna dovete mandare adesso però Eh ce l'ho fatta Un paio di Scroti Di vacca Di muco Di mugine Non devi segnare di uno diritto Certo Che fa Dobbiamo fare il giro All'indietro Il favore fai largo Che sta arrivando Il migliore Sul città Porca troia Porca troia Aaaaa Minchia Ho fatto Ho fatto azione C'è una Sì c'è una Traglia Diciamo Un differente Fieni qua Gianpietro Gianpiero detto Pietro Pietro prestigio Devi stare Sempre dietro Nella vita Cacro Di marda Suga Oh Ma finisci sempre Così che io sono Quello che Devo risincronizzare Allora Parla Ciao Minchia che palle Ho perso Perché devi Risincronizzare Sì Proprio per Stai trovando La scusa a tutto Guarda Guarda Ma che cazzo vuol dire Guarda qui Guarda 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 Ma Il mio cuore L'ho tirato Meno male Non ho rotto niente Non ho rotto niente Non ho rotto niente Non ho rotto niente Non li spacco tutti Ma li ricompro Li rirrompo Cazzo Non ti fa Giorgio Non ti tira Nei joypad Ti deve Li ripagare Tutti in medicina Scusa Ti voglio bene Take it nice and slow Near the vagina Non era mica Pinis and vagina Demon race Don't get boost Take it nice and slow Near the vagina Ma che significa Non c'era Fai Un pesado Non c'è pure la fica Mi ma che dobbiamo fare Fiiiing Coccodè 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 Ma Mi hanno fatto un cazzo Ragazzi Gian Piero Stamattina le hai preso Le tue medicine Un bacio Perfetto Non le ho prese Pace e amore Ah questo è troppo frocio Perché tu hai il casco Io no Per esempio Abbe Picchi Scatiuscia Compa Lo sa Sempre Scatiuscia Che proprio I si scontri I capelli Non lo mette il casco Non lo capisci Hai cancellato XMory official Compa Aspettami Chi minchia Oh Ma ragazzi Voi dovete apprezzare Che non sto bestemmiando Tutto il video Perché lo dovete Proprio apprezzare Ma poi Io fermo Prima che iniziaste la gara Hai cancellato XMory official Cioè vabbè No no Vabbè Ok Sto nervosando Veramente Adesso vado a casa Di quel cretino di Giampiero Minchia Le legnate che gli do Non sono normali Lo trovate in poltiglia Ah Molto Minchia Puttana La madre di Giampiero Ah Picciolo di odio Guarda Ah Vabbè Upenes Ah Tale C'hai pasta di ninja Ma vedi che infine Che ho fatto Inti Birrioni E dov'è la vagina Bu Che cazzo è? Ho capito Cosa stupida Guarda capiscila E poi guarda Slow C'è Sarti da solo Sarde compa Le sarde Le sarde a beccatico Buone le sarde a beccatico Eh figa Basta Basta Se non ribadisce il concetto Non è che è chiaro Non so dove do andare Giorgio Eh ce lo so Figli Trollee Guarda il mio fantastico saluto Ma non mi pare A meno di darti troppi insulti No no guarda Io sono fratele Ma voi dove sei Che ripeto Sei iracondo Vittoria Vabbè ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Purtroppo abbiamo Straperso Perché sono state Delle gare Veramente importanti Soprattutto la terza Che è stata una gara Molto molto ambigua Però era L'adatta per Jumpy Perché così Può vedere sempre I grossi cazzi Davanti a lui Lasciate un bel mi piace Per supportare La serie delle gare Su GTA 5 online Arriviamo a 10.000 mi piace E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo